Gian Piero Bottinelli, abito nel canton Ticino a Lugano dove sono nato. Nel 68 è stato un momento per me molto importante, non c'era all'epoca un gruppo anarchico in Ticino, è stato importante sia per il 68 francese quasi, sia per quello che è successo a Pinelli e Valpreda. All'epoca facevo parte di un gruppo, di un movimento, si chiamava movimento di opposizione politica, che era un movimento della sinistra socialista e cattolica di sinistra, ero nel gruppo antimilitarista, un movimento che è durato due anni e adesso non c'è più. È stato importante per la conoscenza anche che esistevano anche gli anarchici in un certo senso, ecco nel 68, era una cosa che mi aveva un po' stupito, in un certo senso perché non aveva avuto letteratura particolare in quel momento. Ero anche in un ambiente completamente bancario, è la mia formazione iniziale, e questo però tutto, la guerra del Vietnam eccetera, mi ha veramente sconvolto un po' tutta la mia vita, tanto che nel 70 sono poi andato a Lausanna per frequentare una scuola di assistente sociale. Nel 70, ecco posso dire dal 69, ho cominciato a leggere la letteratura anche italiana, i giornali, in particolare io mi ricordo che non era un giornale anarchico, che era l'Espresso, che aveva un altro genere di formato, era un formato molto grande, dove comunque comunicavano tutte le faccende in Italia di Pinelli e poi di Valpreda. Ecco, era il giornale che forse leggevo abbastanza regolarmente, anzi regolarmente. Nel 70 poi sono andato a Lausanna per gli studi e lì sono andato, ho frequentato immediatamente il Syrah di Lausanna, il quale all'epoca era animato da Marie-Christine Mikhailov, o Mikhailov, che è la mamma di Marianne, e ecco, ho frequentato per tre anni regolarmente questo Syrah con la possibilità di approfondire le mie conoscenze sull'anarchismo, nel quale mi ritrovavo completamente. Nel 71 ero andato a fare in giro in Italia con mia moglie e ho fatto un po' in giro dell'Italia per turismo, tra virgolette, in tenda e ero andato a Carrara, dove ho conosciuto Failla e le due figlie, le due gemelle Gemma e Aurora. E poi ero andato a Pistoia, avevo l'indirizzo, per conoscere l'Aurelio Chessa, il quale, quando io ho suonato il campanello, mi ha detto se ero un amico di Valpreda. E gli ho detto no, non sono un amico di Valpreda, che personalmente non conosco. E avevo un piccolo lasciapassare della Marie-Christine Mikhailov, la quale mi diceva che ero un amico, un compagno, queste belle cose. E allora lui mi ha lasciato entrare, poi abbiamo discusso, mi ha tenuto a dormire. Ecco, era un po' una figura un po' così particolare questo Chessa, che è il papà della fiamma, no? Ecco, comunque in quegli anni, ecco nel 70, in particolare nel 71 e anche fino più tardi, naturalmente, ecco la letteratura sul caso Pinelli, che mi aveva sconvolto questo personaggio, che era caduto, tra virgolette, era spinto, non so da quale piano, non ricordo più, dalla questura. E poi anche il seguito della faccenda di Valpreda, nel quale avevo appunto pubblicato, avevo fatto dei volantini per distribuirli in una manifestazione storica che facevano sulla prima internazionale, a nome di Federazione Anarchica Svizzera, che non esisteva per niente. Dunque sono stato inseguito da tutti i giornalisti per chiedermi delle informazioni sul movimento anarchico. Invece in quegli anni, facevo parte di un gruppo anarchico spagnolo, di lingua spagnola, ero l'unico svizzero, è un bel gruppo, erano una trentina di persone giovanissime. Abbiamo fatto dei lavori all'interno degli stagionali stranieri, spagnoli e italiani in Svizzera. Grazie. 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 Grazie.